eh ragazzi io faccio la volata, arrivo fino a vento a San Baronto, io di Cantecimetto, l'altra volta domenica l'ho fatto un 13 oggi lo volevo fare un 12, ma poi che si fa? si va a diritto? si passa a Carmigliano o si fa il giro per vincere? eh a me mi fa ringambo le gambe, ce la fa a me, mi ha preso un crampo eh diretta, compra la buona, ma la senti a scatenarci, ho la canna undale ma qua la canna undale, ci ho ma le gambe buone la canna undale, e la compro una leggera, 3 kg, 6 kg, 9 kg, la voglia compro una leggera, e ci ho le gambe, andiamo ho preso la bomba io, ho lì il caffè, ma la non ne ho, eh si ma aspettate, eh si a mezzogiorno, aspettate alzatevi prima la mattina allora, se puoi vedere furia, eh comunque ho la Specialized che è tutta un'altra cosa eh, perché non si rifiglia, fa il pinone osso, passiamo a fare i pinone, eh non ce l'ha fatto ho detto osso, c'ho le gambe e gli è tardi, domenica cimisi, 13 ha fatto, so che ci ho messo le 12, l'altra volta ci voglio mettere 10, si, 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 si si, 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 si avresti col cae e son cancelli che ho desti, li hanno cancelli, cambiategli mmmm mmmm mmmm